Quest'oggi trovate su Repubblica un titolo che con grande scandalo dice che ieri in Senato Italia Viva ha votato con la destra sul tetto le intercettazioni ed è un segno secondo me del fatto che la sinistra e Repubblica rappresenta una voce autorevole di quel campo ha completamente mollato diciamo l'idea del garantismo si è fatta portatrice di un'idea secondo me illiberale e io credo anche piuttosto di destra che noi si sia in uno stato di polizia e cioè che lo stato pur di reprimere il crimine possa cancellare tutte le nostre libertà ecco io non penso che sia così e penso con grande convinzione che sia invece di sinistra che sia progressista l'idea di difendere le libertà delle persone e fare in modo che l'apparato repressivo dello stato incontri dei limiti combattere la mafia il terrorismo la criminalità è fondamentale ma dobbiamo anche pensare che perché preservare le libertà dei cittadini e considerare che sono innocenti fino a prova contraria è altrettanto fondamentale ed è di questo che voglio parlarvi oggi che il 10 ottobre 2024 io sono Ivan Scalfarotto questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan una storia al giorno dal lunedì al venerdì rigorosamente dal mio punto di vista torno su un tema legato al diritto penale alla giustizia penale e mi rendo conto diciamo da solo che vi parlo molto spesso di questi temi la ragione non è soltanto legata al fatto che essendo un componente della commissione giustizia mi occupo più di frequente di queste questioni e dunque trasferirvi le cose che vedo direttamente che tratto di prima mano diventa un istinto naturale ma c'è anche che io credo lo ritengo con grande convinzione che il diritto penale abbia un ruolo estremamente importante dal punto di vista politico perché se ci pensiamo in uno stato di diritto tutto ciò che non è vietato dalla legge penale è lecito e dunque la funzione del diritto penale è quella di limitare la libertà dei cittadini di conseguenza da genuino liberale quale ritengo di essere penso che il diritto penale sia uno strumento estremamente delicato che vada maneggiato con grande cautela proprio perché rappresenta lo stato che impone dei limiti alla nostra libertà personale che in teoria dovrebbe essere amplissima e che tra l'altro assiste questi limiti con delle sanzioni molto pesanti molto importanti che consistono poi soprattutto nella perdita della libertà personale che è un bene io credo enormemente prezioso lo dicevo qualche giorno fa proprio in questo podcast perdere la propria libertà è il sacrificio supremo io al solo pensiero sarà che poi frequento le nostre carceri e vi assicuro che non sono posti nei quali si vorrebbe passare neanche 15 minuti però ecco il pensiero di perdere la libertà personale a me come individuo come essere umano dà veramente come dire un brivido lungo la schiena e dunque questo strumento va tarato va dosato con grandissima cautela grandissima attenzione e dunque questa è un po' anche la ragione per la quale ho chiesto al mio gruppo parlamentare di mettermi in quella commissione proprio perché credo che sia uno snodo fondamentale dei nostri temi democratici e devo dire anche che la mia posizione su queste questioni è una delle cose che principalmente mi divide dal campo del centro-sinistra al quale come sapete io ho sempre sentito di appartenere mi considero un progressista mi considero lontanissimo dai valori della destra e in particolare dell'estrema destra ma se c'è un punto forse insieme alla politica estera che mi divide di più dal centro-sinistra quella è proprio la concezione l'idea che prevale attualmente nel centro-sinistra della giustizia e qualcuno dirà tu sei il responsabile esteri di Italia Viva sei il membro di commissione giustizia di Italia Viva e proprio giustizia e politica estera sono le cose che ti dividono più dalla sinistra ebbene sì lo considero una sorta di onere che cade sulle mie spalle quello di provare a trovare dei punti di caduta cosa che non sarà facile ma insomma torno su queste questioni su queste vicende perché ieri in aula del senato abbiamo approvato una legge tra l'altro di iniziativa parlamentare non capita molto spesso è una legge che è stata proposta dal mio collega Pierantonio Zanettin di Forza Italia che prevede l'introduzione di un tetto massimo alle intercettazioni cioè questa legge che cosa dice? che salvo i reati di terrorismo e di mafia appunto le intercettazioni non possano durare più di 45 giorni salvo, dice la legge che abbiamo approvato che adesso andrà all'esame della Camera salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore ai 45 giorni sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti che devono essere oggetto di espressa motivazione quindi si introduce un nuovo principio ed è quello che le intercettazioni di regola non possano durare più di 45 giorni cioè in un mese e mezzo bisogna capire se il reato è stato commesso se ci sono delle prove ma salvo appunto che si tratti di reati di terrorismo e di mafia altrimenti bisogna smettere oppure il pubblico ministero deve provare che sia indispensabile continuare e ottenere l'autorizzazione del giudice terzo ora perché mafia e terrorismo vengono escluse non soltanto perché sono reati gravissimi io direi ancora di più perché sono reati che sono estremamente complessi cioè le organizzazioni terroristiche quelle mafiose hanno un'organizzazione hanno una struttura e un modo di operare che dura nel tempo e dunque evidentemente anche per la complessità per le tecnologie che utilizzano per la loro abilità anche a schivare diciamo così gli strumenti investigativi per quei reati c'è bisogno di più tempo per il resto 45 giorni deve essere la regola ora a sinistra ci si è lamentati tantissimo ieri il PD ha preso una posizione molto forte non vi sto a dire il Movimento 5 Stelle noi abbiamo deciso di andare in direzione opposta e la ragione per la quale poi diciamo la decisione è ricaduta sulle mie spalle è stata condivisa dal gruppo ma insomma in commissione poi alla fine ci vado io è che noi dobbiamo ristabilire il concetto che la repressione del crimine non può essere l'unica nostra stella polare è sicuramente fondamentale e importantissimo ma noi non possiamo dimenticarci che esiste anche un diritto costituzionale alla privacy e alla riservatezza e lo Stato può diciamo interferire con questo diritto costituzionale soltanto in modo regolamentato come un'eccezione alla regola invece quello che è passato nella cultura purtroppo del centro-sinistra è che l'intercettazione sia la norma sia una cosa ordinaria sia una cosa che può essere fatta liberamente perché c'è da sconfiggere il crimine e quindi questo viene prima di tutto attenzione le cose non possono stare così perché lo Stato che entra nei nostri strumenti elettronici nelle nostre vite nelle nostre case può certamente farlo deve farlo se ci sono delle ragioni ma non può farlo in modo indefinito proprio perché esiste un principio della presunzione dell'innocenza perché tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva e dire ma se noi limitiamo le intercettazioni poi non possiamo intercettare i reati spia cioè dire che esistono altri reati che ci possono condurre alla mafia e al terrorismo significa dire che tutti i reati sostanzialmente possono dar luogo a intercettazioni senza limite dire una volta ogni 50 un caso di corruzione e anche un caso di corruzione mafiosa significa avere il permesso di intercettare indefinitamente anche gli altri 49 casi in cui la mafia non c'entra nulla allora in uno Stato di polizia cioè se noi dicessimo allora facciamo così lo Stato ha tutti gli strumenti per intercettarci sempre per fotografarci sempre per controllarci sempre per entrare ai nostri conti correnti per fare come in Cina delle foto quando camminiamo per strada e sapere dove stiamo noi il crimine l'avremmo ridotto a zero ma siamo disponibili a perdere tutta la libertà per ridurre il crimine a zero io purtroppo devo pensare che il crimine sia un uso distorto della libertà e quindi che vada certamente prevenuto il represso ma si deve considerare un prezzo che paghiamo all'essere liberi e allora io credo che questa legge proprio perché prevede la possibilità di procedere con nuove intercettazioni vada bene nel senso che se c'è bisogno si può fare però stabilisce un principio di civiltà il principio di civiltà è che lo Stato non può con la scusa della repressione del crimine intercettare senza limiti persone che fino a prova contraria sono innocenti io mi fermo qui noi ci sentiamo domani avete ascoltato la versione di Ivan un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo ciao 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 ciao